Alice svolge un lavoro fondamentale perché è un po' l'interconnessione tra la parte pubblica, la parte privata, chi opera sul settore del lavoro. Questo ci permette di avere uno scambio di idee, di costruire quelle che poi sono le prospettive del futuro e di avere una visione globale che ci permette di affrontare i problemi a 360 gradi nel mondo del lavoro e nel mondo dell'economia. Ospite oggi di Interview Alfonso Santagnello, Head of Vertical Logistics di Manpower Group. Il mercato del lavoro in Italia sta avendo buone performance in un confronto con l'Europa, tenendo conto però dei deficit storici che ponevano il nostro paese tra quelli che registravano i maggiori ritardi. Sicuramente negli anni futuri l'occupazione è tra le componenti su cui inciderà maggiormente la transizione digitale con l'intelligenza artificiale che per molti è ancora un'incognita. L'impatto dell'intelligenza artificiale sarà molto importante nei prossimi anni, già lo è attualmente. Quello che prevediamo noi è che ci sarà un impatto soprattutto sulle mansioni a più bassa specializzazione. Il tema sarà appunto alzare la specializzazione dei nostri lavoratori perché questo richiederà il mercato del futuro. Dovremmo muoverci con modelli predittivi che prevederanno quali saranno il nuovo set di competenze di questi lavoratori. Abbiamo fatto delle ricerche molto importanti anche con dei partner come Ernest Young che ci ha come dire dove abbiamo studiato un modello su quelle che saranno le professioni da qui al 2030 soprattutto nel mondo della logistica e l'80% delle professioni cambierà sicuramente. Quindi le aziende si troveranno ad affrontare un percorso che prevederà di rischillare e come dire dare nuova formazione per i nuovi lavoratori, per quelli che saranno i lavori del futuro. Ecco, il settore del trasporto e la logistica vive e deve affrontare ormai da anni un forte mismatch tra domanda e offerta di lavoro. In Italia abbiamo un'alta percentuale di disoccupazione giovanile, molti NIT. Come rintracciarli? Cosa è necessario fare? Noi lavoriamo tantissimo attraverso le politiche attive, quindi andiamo a intercettare sia con i territori sia anche con le istituzioni pubbliche in IT e inseriamo nei nostri programmi di formazione. Considerate che noi lavoriamo sul mismatch delle competenze, in italiano il diselenamento di queste competenze attraverso sostanzialmente tre strumenti che sono le academy in cui andiamo a formare i nostri lavoratori in base a quello che ci richiedono le aziende, andando a dare nuovo know-how e considerate che noi l'anno scorso abbiamo formato circa 6.000 lavoratori attraverso le academy attraverso un programma globale che si chiama MyPath in cui i nostri lavoratori sono seguiti da un percorso di formazione continua e anche su questo l'investimento è un impegno da parte nostra importante perché l'anno scorso abbiamo formato 25.000 lavoratori e attraverso gli assessment, quindi andando a lavorare su modelli predittivi di quelle che sono le hard, le soft skills e andare a lavorare su quelle per, come dire, riformare i lavoratori per quelle che sono le esigenze del mercato attuale. Questa è l'analisi di Alfonso Santaniello Head of Vertical Logistics di Manpower Group sull'evoluzione del mercato del lavoro Appuntamento a lunedì prossimo per una nuova interview al personaggio del giorno